guarda la roba, spazio, spazio, spazio mi vediamo ancora quei rami lì ma vai, è un micidiale né non va a puntarti, se no ho la ruota di euro no, c'è una ruota che è anche piena stia, quasi c'ero, no no no, fai niente, ritrovo non gli ho dato di... non ero convinto eh sì, c'è lì quello lì in mezzo ai coglioni c'è lì cappolo lì sono io che non riesco a tenerla fermo, tieni la frizione eh no, non ho io l'appoggio però aspetta che non riesco a aiutarti eh devi capparla tutta che non riesco no, tieni la frizione poi ti aiuto io non riesco a salire ma che attrota oh 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 poi c'è un'altra ancora devi andare là sì sì sicuro grazie ragazzi qua c'è trota portaci altro che montaggio cazzo ciao 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 ciao